Per me l'ideale è di fare il più vasto il mélange possibile. La planità è diversificata, gli ambienti sono diversificati. Il campo è bellissimo perché è composto da tante spighe di colori, forme, altezze completamente diverse. È importante lavorare come comunità e non come agricoltori singoli. La planità è diversificata, gli ambienti sono diversificati, gli ambienti sono diversificati, gli ambienti vogliono mangiare un'altra alimentazione.